La coscienza civica nell'Agrigentino ha certamente acquisito negli anni una maggiore sensibilità, ma le sacche di resistenza restano e troverebbero protezione in alcuni settori delle istituzioni politiche locali. A lanciare l'allarme il procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio lo ha fatto in occasione della presentazione del manuale di autodifesa ambientale del cittadino scritto da Luca Ramacci, promossa da Rega Ambiente nel contesto di una giornata di confronto sul tema dei reati ambientali. Il capo dell'organo inquirente di Via Mazzini, nel suo intervento, ha fatto il punto della situazione sull'attività svolta dal suo ufficio rispetto all'avvio delle procedure di demolizione degli immobili abusivi nel territorio agrigentino. Sul banco degli imputati, quei sindaci e quegli amministratori che non sembrano essere proprio alleati dello Stato nella lotta all'eccemento selvaggio. E la spiegazione sarebbe spesso strettamente elettorale, ha sottolineato Patronaggio. Ci sono sindaci che hanno basato la loro campagna elettorale sull'abusivismo e delizio. Ciò significa che il partito degli abusivi sposta ancora voti. Sono ancora le parole del capo della procura di Agrigento, il quale ha poi evidenziato come al fine di bloccare la macchina delle demolizioni gli enti si dimostrano inefficienti, lasciando ogecere negli uffici migliaia di pratiche di sanatoria, ma non solo. È emerso, e l'ho dovuto segnalare alla Corte dei Conti, ha osservato ancora a patronaggio, che gli enti non applicano le sanzioni amministrative nei confronti di coloro che non avevano rispettato l'ingiunzione a demolire. Per legge, queste somme sono destinate a rimvinquare il capitolo per le demolizioni. Non solo, ma alcuni comuni non avrebbero mai provveduto ad acquisire i beni abusivi al proprio patrimonio. Lo scenario delineato lascia parecchie ombre che diventano imbronte marcate quando patronaggio spiega le tecniche utilizzate da quei sindaci che vogliono sfuggire ai propri obblighi. La tecnica semplice è quella di applicare unicamente l'ordine cronologico, senza prendere in considerazione la zona in cui l'abuso è stato commesso. Così, a concluso patronaggio, si abbatte la verantina di un quarto piano di un povero Cristo, che ovviamente non cambia nulla sotto l'aspetto urbanistico.